Manca ancora un mese al via del campionato, ma i tifosi del Rimini tornano a riassaporare l'appuntamento con una nuova stagione. La campagna abbonamenti 2024-25 ha preso infatti ufficialmente il via con la finestra dedicata a chi, fino al 15 agosto, vuole confermare la propria tessera per le 19 partite casalinghe della squadra di Boucher nel nuovo torneo di Serie C. Per usufruire della prelazione è sufficiente presentare il vecchio abbonamento e un documento d'identità. Dal giorno 16 agosto scatterà invece la seconda fase con la vendita libera aperta ai nuovi abbonati. Per quanto riguarda i prezzi, due listini differenti a seconda che si tratti di rinnovo o vendita libera. Non mancano ovviamente anche le tariffe ridotte che si applicano alle donne, agli over 65 e agli invalidi. Previsti prezzi speciali anche per i giovanissimi dai 4 ai 17 anni e oltre alla biglietteria dello stadio è possibile sottoscrivere le tessere anche su www.vivaticket.com e alla tabaccheria Pruccoli di Viale Vespucci. Solo tu fai battere il mio cuore. Questo è lo slogan della campagna abbonamenti del Rimini 2024-2025 per il campionato di Serie C. Siamo fuori dal Romeo Neri, sono da poco passate le 11 e dunque è scattata l'ora X, l'ora di apertura del botteghino per la vendita delle tessere della nuova stagione, già in fila per fare l'abbonamento, sempre fedeli? Sempre fedeli, sempre. Forza lì. E dalla nuova stagione cosa ci aspettiamo? Un buon campionato, da divertirci. Il nostro girone è un girone molto equilibrato perché non c'è una squadra a massa campionato, quindi il suo livello è molto, il campionato è molto livellato. E dove si abbonerà? In che settore? Distinti. Da quanti anni è abbonato? Più o meno 30. E c'ha sempre, i vicini di posto cambiano, sono sempre quelli? Generalmente sono abbastanza fidelizzati, sono quasi sempre quelli. Ha fatto l'abbonamento per suo figlio, giusto? Sì, anche. Di padre in figlio, quindi tradizione? Sì, esatto. In che settore? Distinti. Mi sembra una società che ha voglia di fare e quindi credo che ci saranno dei buoni risultati anche a livello sportivo, oltre che amministrativo.